ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come il finalista di amici wax rompe finalmente il silenzio dopo la puntata conclusiva del talent ecco la verità sulla famosa cicatrice matteo lucido in arte wax ha catturato l'attenzione del pubblico sin dal suo ingresso nel format mariano di canale 5 temperamento inquieto e fumantino wax ha ben presto palesato il suo particolare percorso di vita vengo dalla strada dovevo sopravvivere non puoi vivere di istinto sono legatissimo alla mia famiglia non mi ha mai fatto mancare nulla ma non mi ha mai fatto mancare la sofferenza il cantante milanese ha precisato inoltre sono sempre stato in tensione la mia famiglia ha sempre litigato poi arrivavano i sorrisi virgolette punto le sue dichiarazioni hanno ulteriormente fomentato la curiosità dei fan che si sono concentrati in particolar modo sull'origine della cicatrice ben visibile sul suo volto nei mesi i rotocalchi hanno avanzato parecchie ipotesi ed illazioni alla fine wax ha deciso di fornire finalmente una spiegazione ufficiale durante un'intervista alla testata il fatto quotidiano wax arriva la missione sconcertante direi una bugia l'intervistatrice de il fatto quotidiano ha esordito sai cosa compare sui motori di ricerca quando scrivo il tuo nome la cicatrice di wax esistono ipotesi più varie e fantasiose svelaci il mistero wax ha replicato con un inciso sibillino direi una bugia se dicessi che me la sono procurata cadendo dalle scale direi la verità se affermassi che ho detto una bugia il cantante sembra quindi intenzionato a mantenere in riservo circa il presunto incidente all'origine della cicatrice forse per tutelare eventuali persone coinvolte oppure per cavalcare la caip e i pruriti dei suoi giovani fan si è ricamato molto inoltre sul suo rapporto con la collega angelina mango dopo un flirt con la ballerina claudia in effetti il cantante ha sviluppato un rapporto preferenziale con la giovane figlia d'arte che ha conquistato il secondo posto ad amici dietro al vincitore mattia zenzola ecco cos'ha riferito in merito al loro rapporto wax su angelina mango un rapporto indistruttibile il cantante ha confessato a settembre è iniziata un'amicizia molto bella mi ha subito colpito perché non avevo mai conosciuto qualcuno con questa mentalità ovvero con una grande immaginazione ci ha aiutato molto l'immaginazione e naturalmente la musica wax ha infine rivelato un feeling nato piano piano un'amicizia rafforzata dalla convivenza condividere insieme tante emozioni crea un rapporto indistruttibile pur senza sbilanciarsi wax ha riconosciuto con affetto i meriti della talentuosa collega e non si esclude una collaborazione futura tra i due ex allievi di amici in assenza ovviamente di eventuali sviluppi romantici grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video ciao 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 ciao